Ciao, oggi vediamo come cavolo funziona Not Just Analytics, quindi bando alle ciance e cominciamo. Ciao, oggi vediamo come districarci nell'utilizzo di Not Just Analytics versione free e versione premium. Iniziamo con la versione free, questa è la landing page appunto di Not Just Analytics, andiamo a digitare un creator, in questo caso ho scelto Gabri Solution, analizziamo. Perfetto, quindi siamo sul profilo di Gabri Solution, vediamo un po' come se la sta cavando su Instagram. Allora, con un engagement rate del 9% sicuramente è ben al di sopra della media, infatti possiamo notare che per la sua fascia di follower si potrebbe aggirare al 2,4% di engagement rate, quindi diciamo che Gabri Solution è unico a livello di engagement, quindi difficilmente troverete un profilo che ha i suoi numeri e che ha il suo tasso di engagement. Possiamo vedere un riassunto dei follower, dell'acquisizione di follower su settimana o mese, quindi possiamo vedere che comunque il profilo sta crescendo molto velocemente, nella settimana abbiamo avuto 6 post e una media di follower al giorno di più o meno 39 persone. Non c'è nessuna attività sospetta, vabbè ottimo. Ecco, qui abbiamo il tasso di crescita di Gabri Solution, quindi possiamo anche vederlo, questo diciamo è a livello storico, però possiamo vederlo anche a 6 mesi. O a 3 mesi o a un mese o eccetera. Come possiamo notare diciamo che il suo percorso da creator vero e proprio è iniziato a fine 2020. Infatti da qui proprio vediamo un approccio molto sistematico che lo porta a una crescita costante nel tempo. Qui c'è stata una pulizia di follower in questo tempo qui, evidentemente aveva dei follower che consideravo inattivi. Comunque è cresciuto sempre in maniera abbastanza lineare, ecco. Non utilizza hashtag, quindi non ci sono hashtag qui presenti. Ok, questo invece è il rapporto tra like e commenti negli ultimi 12 post. 1,59 è elevatissimo come rapporto, quindi significa che come creator riceve tantissimi commenti. Magari dopo andiamo a sbirciare anche la sua pagina Instagram. Frequenza dei post, 0,92 vuol dire che pubblica praticamente più di un post al giorno praticamente. Ogni quanti giorni questo profilo pubblica un post, praticamente ogni giorno. View rate, che cos'è? È la media delle visualizzazioni dei video pubblicate appunto negli ultimi 12 post. E poi invece album storie in evidenza, che cosa si dice? Il numero degli album storie in evidenza pubblicati, 8. Bene, perfetto. Qui possiamo vedere i video views, i like, i commenti, sicuramente. Qui, tipo, se dobbiamo fare un'analisi di questo profilo, andiamo a vedere i like, i post che hanno ottenuto più like. Quindi, ad esempio, questo 8 abitudini per il successo ha ricevuto più like rispetto alla media. E quindi può essere molto interessante ad andare ad analizzarlo, sia dal punto di vista di gancio, sia dal punto di vista di contenuti. Oppure questo qui, 6 errori nelle storie. Quindi, insomma, se vuoi fare attività, diciamo, di reverse engineering, ti basta vedere quali sono i post che hanno performato meglio di un profilo e poi andarteli a studiare, a vedere cosa è stato scritto nella caption, cosa è stato scritto, sia un carosello, cosa è stato scritto nelle varie slide, eccetera. Qui abbiamo un'analisi del video. L'analisi del video, secondo me, l'analisi del video, sì, ok, ci può stare, ma è un formato che ormai è poco utilizzato su Instagram. Quindi, io non mi soffermerei molto sull'analisi del video, perché i video long form non funzionano bene su Instagram. Io mi soffermerei più su questa parte, quindi hanno analisi proprio dei post. Qui, oltretutto, ci sono anche dei... questo è un reels, ad esempio, ci sono anche dei reels. E questi sono i post, invece, mostrati, appunto, in maniera sequenziale. Come possiamo notare, appunto, abbiamo... non abbiamo mai presenti i tag, abbiamo però delle persone taggate. Questa, per esempio, è Enrica Mannari, che lo si pronuncia così. E poi, infine, abbiamo... ecco, questa tabella che ci mostra i nuovi follower. Per esempio, qui abbiamo un picco di 500. Sarebbe molto interessante andare a vedere proprio sul profilo che cosa è stato pubblicato l'8 gennaio per capire a cosa è dovuto questo particolare picco. Quindi, questa è per quanto riguarda l'analisi gratuita dei profili. Se, invece, vuoi, diciamo, svolgere un'analisi un po' più dettagliata, possiamo farlo con le cosiddette analisi plus. E quindi, andiamo a vedere un profilo con un'analisi plus. In questo caso, andremo a vedere il profilo di Not Just Analytics e poi il mio profilo. Quindi, iniziamo con Not Just Analytics. Spero che sia giusto il nome. Ok, quindi, come possiamo vedere, ora siamo all'interno dell'analisi plus, perché, appunto, analizzando Not Just Analytics ci dà la possibilità di fare un'analisi plus. Vediamo tutti i post. Qui vediamo i post che hanno performato meglio in base ai follower o in base alle interazioni. Quindi, ad esempio, se noi vogliamo vedere su un profilo quali post hanno dato più follower o quali post hanno generato più interazioni. Quindi, se noi vogliamo aumentare il nostro tasso di engagement, ci conviene muoverci su questo tipo di logia di post. Quindi, abbonamenti su Instagram, ad esempio. Qua c'è una news. Quindi, poi si va a vedere su Instagram esattamente di che cosa parla quel contenuto. Qui c'è poi il riassunto su base settimanale o mensile. Molto simile a quello che abbiamo già visto. Qui c'è l'engagement rate, che è 1,04, quindi più basso rispetto alla media, ma comunque, in base al numero di follower, nulla di preoccupante. View rate, quindi, vabbè, è l'analisi dei video pubblicati. I video non funzionano su Instagram. Quindi, i video ovviamente sono quelli che non sono reels, quindi più lunghi di un minuto, non funzionano assolutamente su Instagram. Quindi è normale che questo valore sia abbastanza basso. Quindi, qui ci dice la geolocalizzazione Italia, vabbè. La crescita dei follower, quindi qui ci fa vedere la crescita dei follower, e oltretutto qui ci fa vedere dei post. Quindi, se zoomiamo, andiamo a un mese. Qui vediamo gli ultimi post e magari possiamo vedere se hanno generato dei picchi oppure no. Quindi, questo che post è? Questo è il post sull'abbonamento Instagram, e vediamo che poi comunque ci sono stati dei follower, evidentemente avranno visto il post sugli abbonamenti, e si saranno iscritti. Quindi, avranno iniziato a seguire la pagina. Qua ci sono gli hashtag. Non tanto utilizzati, vedo che non utilizza tanto gli hashtag. Qui abbiamo le caption. Come vediamo che le caption che funzionano di più sembrerebbe che siano quelle molto corte, almeno per il profilo di Not Just Analytics. Il profilo, l'engagement rate è più basso, possiamo notare, quindi le persone sono un po' meno ingaggiate con il profilo di Not Just Analytics. Ci dice quanti fogli ho raggiudato, l'ho crescita un trend positivo, perfetto. Post sponsorizzati. Ha sponsorizzato almeno un post negli ultimi mesi, ok. Però, secondo me non è una cosa negativa, dipende poi qual è l'obiettivo della sponsorizzazione. Post di live, giveaway, freebie, shoutout. Ok. Sì, ok, qui ci dice praticamente che ha sfruttato appunto una di queste tattiche per crescere, quindi in questo caso potrebbe avere l'organizzazione sia in prima persona che essere stato incluso tra i beneficiari degli stessi, ok. Quindi o che lui stesso ha lanciato un freebie oppure che è stato incluso all'interno di questo tipo di attività da un altro cliente. Eventi importanti, quindi qui abbiamo degli eventi importanti con le relative date, anche qui quindi se noi vediamo che c'è una data 19-10-2021 andiamo a vedere che cosa è successo al 19-10-2021 oppure qui 13-12-2020 andiamo a vedere cosa è stato postato il 13-12-2020 cioè perché ha generato tutta questa crescita. e niente, poi qui abbiamo le interazioni con i post quindi video, foto singolo, carosello vediamo che appunto è il carosello quello che performa meglio a livello di interazioni like, quindi vediamo appunto che questo è il post che è generato più like con un engagement rate superiore al 3% quindi poi ci sarebbe anche interessante andare a vedere cosa c'è in questo post qua invece ci sono le video views video views anche qui praticamente è interessante andare a vedere poi che cosa c'erano esattamente in questi video engagement rate vabbè quindi anche qui si va a vedere l'engagement rate vediamo quali sono i post che hanno performato meglio andiamo a vedere di che cosa parlano poi vabbè analisi video anche qui secondo me sono analisi video e non ci soffermiamo perché tanto i video su Instagram mio personale giudizio ma non ha neanche senso pubblicarli se non siano Reels analisi strategia post automatica quindi ok analisi strategia quindi che cosa ci dice qui qui ci dice che cosa come viene strutturato diciamo la strategia di Not Just Analytics frequenza di pubblicazione il formato più utilizzato il formato che ha generato più interazioni il tipologia di caption la media dei commenti la lunghezza delle caption e per esempio che ci dice addirittura che per Not Just Analytics il numero di hashtag protette più interazioni è 3 quindi vabbè controllo interazioni attività relativa alle ultime 12 post ci segnala che ci sono state delle sponsorizzazioni e poi nell'analisi più dettagliata andiamo a vedere se appunto il 100% organico il numero di commenti e possiamo vedere appunto il post per engagement anche qui ci viene segnalato che abbiamo visto prima che questo è il post che ha performato meglio best of classifica influencer marketing 3 hashtag quindi andiamo a vedere di che cosa parla questo post per capire se lo possiamo replicare cioè ammesso che comunque noi dobbiamo essere interessati a questo argomento qui quindi magari se vogliamo fare una pagina che parli solo di Instagram e degli ultimi trend di Instagram sarebbe interessante vedere come comunica Not Just Analytics per poi replicare e ok qui abbiamo invece nuovi follower come appunto possiamo vedere dalla classica tabella adesso invece andiamo a vedere un po' quali sono come si presenta la dashboard per chi ha il premium io ho comprato appunto il premium di Not Just Analytics per vedere un po' quali sono le funzionalità e se poteva essermi utile abbiamo nuovi follower cioè persone che hanno iniziato a seguirti reach o engagement rate quindi il rapporto tra la reach e il engagement rate che in questo caso è 17,34% e l'open rate delle storie che in questo caso è il 62% quindi mi dice che il mio ultimo post è andato molto bene quindi 30 media like 165 di copertura stimata quindi non è male come risultato ecco qui abbiamo invece un graffio che mi dice le impression la reach e le visualizzazioni del profilo quindi come possiamo vedere diciamo che per esempio le visualizzazioni del profilo corrispondono a cosa? ai miei post cioè nel senso quando vedi questo post ha generato un elevato livello di reach e anche questo posto qui che probabilmente era un carosello e questo si è tradotto in visite profilo possiamo vedere che i caroselli anche se meno virali per quanto riguarda il mio profilo comunque generano molto traffico sul tuo profilo rispetto ai reels quindi questa è un'indicazione importante ad esempio poi abbiamo i post migliori in questo caso questo è il post migliori che appunto è il carosello proprio che ho pubblicato qui dove abbiamo il maggior numero di visite al profilo e infatti ha degenerato delle conversioni ha fatto crescere meglio è una reach comunque il rapporto engagement rate è rich è 31% che comunque è alto cioè 6 nuovi follower 58 visite al profilo quindi non è assolutamente male comunque è una media visita al profilo di 18 quindi vuol dire che ha davvero spaccato qui sono le storie possiamo vedere le storie che hanno avuto il miglior open rate in questo caso io faccio delle storie diciamo un po' più diciamo così divertenti che escono un po' fuori dagli schemi ed effettivamente quelle che faccio così sono mi performano davvero meglio in assoluto perfetto poi abbiamo generali vediamo un po' i generali arrivati nella pagina di generali che cosa abbiamo ad esempio il numero di impression la copertura le visite al profilo insomma tutte se vogliamo sapere effettivamente cosa significano queste parole ci basta cliccare qui per se non è di più quindi click through rate ad esempio la percentuale di click sul link in biografia rispetto alle visualizzazioni e in questo caso sono a 4,98% che significa che 4 persone su 100 decidono effettivamente di cliccare sul link in bio quindi qua vediamo lo stesso grafico di prima con impression reach e visual e profile views non si vedono i reels ahimè si vedono solo i caroselli però come possiamo vedere se togliamo l'impression e torniamo la reach si conferma quello che ho detto prima questo carosello mi ha girato tantissime visite al profilo e anche questo qui quindi i caroselli performano un toll bene i reels magari sono molto più potenti a livello di reach ma effettivamente a livello di visita al profilo sono meno performanti quindi è un pubblico un po' più diciamo così veloce quindi è difficile da trattenere attraverso le visite al profilo anche qui follow in base ai miei post quindi possiamo vedere che quindi il reels ha performato davvero bene in questo caso però quindi nonostante il mio profilo non sia ottimizzato il reels era perfettamente in linea con quello che comunico sono molto contento di questo poi qui vabbè abbiamo una serie di altre statistiche come website click in questo caso ho un meno 40% probabilmente perché comunque ho avuto un calo rispetto al 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 periodo scorso e niente poi qua mi dice da dove viene la maggior parte del mio traffico quindi Italia ed effettivamente il mio profilo è in italiano quindi è giusto che sia così le fasce d'età e adesso andiamo a vedere invece i post quindi la sezione dedicata ai post quindi nella sezione dedicata ai post anche qui abbiamo tutta una serie di statistiche che possiamo cliccare qui per appunto comprendere il significato quindi media visualizzazioni media salvataggi ad esempio media salvataggi il numero medio di volte che i tuoi post vengono salvati media visualizzazione il numero medio di visualizzazione che ricevono i tuoi video media like il numero medio di like eccetera media salvataggi zero no i miei post vengono salvati molto questo dato è sbagliato qui qui ci fa capire quando effettivamente a che orari dovremmo postare in che giorni ovviamente diciamo così comprensione del fatto che io ho pubblicato ancora poco per arricchire questo diciamo questa tabella bisognerebbe pubblicare con maggiore frequenza quindi questo mi fa capire come andrà il mio prossimo post in questo caso io sono in una fase diciamo non positiva quindi sono sotto la media e di conseguenza il mio post ha una copertura normale cioè non non mi aspetto un picco poi dipende anche dalla qualità del post per carità perché comunque se il post ingaggia eccetera e instagram si accorge che ha valore poi comunque me lo spinge lo stesso vabbè vuoi più copertura vuoi più interazioni mi dice appunto quali sono i format ok questo è un video che ho fatto ma non ci interessa quindi questi sono i migliori post però anche qui non mi prende reels ahimè qui non mi prende reels e niente ecco mi fa vedere appunto capacità di traslazione frequenza di visibilità impression e copertura quindi mi da tutte queste statistiche io qui ho scritto la caption mi dice il numero di corsi reach su engagement rate quindi insomma mi fa capire cosa mi ha performato meglio e cosa dovrei replicare quindi vediamo che quelli che mi hanno performato meglio nell'ultimo periodo sono quello di zero calcare quello dei nuovi propositi e quello del perfezionismo concludiamo con la sezione dedicata alle storie nella sezione dedicata alle storie abbiamo la percentuale di completamento e l'open rate non male impression e reach e poi le varie la varie media di impression media visualizzazioni su giorno con la percentuale di completamento e l'open rate diciamo il percentuale di completamento è abbastanza elevata diciamo che in questo momento comunque non mi posso lamentare sulle storie spero che questo tutorial di not just analytics ti sia stato utile se hai qualche domanda mi puoi scrivere nei commenti appunto esserò felice di darti una risposta ovviamente se il video ti è piaciuto ti invito a lasciare il like iscriverti al canale e attivare la campanella per rioniere aggiornato sul mondo del digital marketing per rioniere aggiornato per rioniere aggiornato per rioniere aggiornato per rioniere aggiornato per rioniere aggiornato